Quella di oggi è la giornata contro la violenza sulle donne. Oggi c'è questo sit-in qui nei pressi del Palazzo di Giustizia. Voi chiedete giustizia per Anna Carlini e per tutte le donne. Ormai noi la dobbiamo chiedere noi la giustizia, perché la giustizia dovrebbe essere una cosa automatica. Invece noi oggi siamo qui anche in occasione di questa giornata, perché la violenza è la forza degli incapaci, a chiedere giustizia per Anna, perché questo è un omicidio. Basta leggere le carte, leggiamole. Leggiamole che Anna è stata fatta bere per poi essere abusata. Abbiamo tutta la documentazione medica che lei non beveva fatta entrare lì dentro in questo tunnel per portarla alla morte, stuprata e lasciata morire. Noi vogliamo giustizia. Tante prove sono state cancellate, la telecamera è finta e tutte le prove che sono emerse fanno capire che è un omicidio. Tutte le prove. Invece dalla procura non si sa perché ci hanno nascosto tutto. Sia l'ultimo messaggio del ragazzo che ha passato le ore con mia figlia, sia la telecamera. E in più il capoprocuratore non si sa per quale motivo ha disinfettato gli indumenti di mia figlia. Noi familiari siamo uniti. Ci sono Bella Tirocco ed Elena che ci aiutano in questa cosa. Ma altre persone, se posso dire che le associazioni ci aiutano, io dico di no. Ci abbandonano tutti quanti. Quindi i morti vengono dimenticati. E questo noi non lo permettiamo e vogliamo giustizia. Ma che sia giustizia. Non vogliamo più essere presi in giro. E la giustizia non gli ridarà indietro i loro cari, ma è una boccata d'ossigeno per chi vive sospeso tra la vita e la morte perché loro non vivono più. E questa la magistratura lo deve capire. Abbiamo bisogno di fatti concreti, delle pene severe, nessuno sconto. Grazie a tutti.